Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Scegliere anormali gli omosessuali o scegliere Paolo Egonu, la pallavolista di colore, come esempio di non italianità. Contro le donne. Certo, e anche questo tema assolutamente, vuol dire dire frasi molto gravi e se per quelle frasi si può avere addirittura un vantaggio da un punto di vista della carriera professionale o addirittura diventare interessante per alcune forze politiche. Io credo che abbia ragione l'intervento precedente, cioè è un problema grosso di cultura del nostro paese. Cioè come fa a fare curriculum, dire frasi omofobe, dire frasi razziste? Non può diventare un merito, cioè veramente sta andando tutto al contrario. E il ministro Crosetto oggi dice delle cose, ma ricordiamoci quello che disse appena dopo. Che sembra avere un po' subito però tutta la vicenda Vannacci, no? Se un ministro subisce una vicenda del genere è un problema grande, perché lui definiva farneticazioni quelle del libro di Vannacci. Esattamente. E diceva che gettavano discredito sulla Repubblica e sulla Costituzione. Allora come si fa a dire qualche mese prima queste parole, qualche mese dopo, poi dover quasi giustificare il fatto che sia o non sia una promozione quella che ha ricevuto Vannacci? Soprattutto dal punto di vista politico, io lo dico con chiarezza, ma se qualche partito è interessato a Vannacci per portare a casa qualche voto, questo è un sintomo di disperazione totale? Probabilmente lo sono anche per il valore mediatico che ha Vannacci e qui diciamo potremmo aprire una riflessione sulle nostre responsabilità, diciamo collettive, creazioni di fenomeni poi elettorali. Certo, ma io sono orgoglioso che tra le forze politiche che minimamente non sono interessate alla candidatura del generale Vannacci ci sia il Movimento 5 Stelle che è ben lontano da quelle posizioni. Allora, sentami.